Sei completamente ossessionata dalle dolci bambole LOL Surprise? Allora questi life hack ti saranno sicuramente utili! Lava la bambola in una doccia illuminata, organizza un concorso di bellezza sul palco, decorala con morbide orecchie e falla sfrecciare su un'elegante macchina rosa. Dai subito un'occhiata a queste e altre idee per bambole LOL sul nostro canale! Per il primo life hack abbiamo bisogno di una palla di plastica LOL. Separa le metà. Rimuove il supporto e ingrandisci il foro con un saldatore. Metti una luce led all'interno. Hai bisogno di due ugelli di piccole torce elettriche. Fissali alla fonte di luce. Installa il sedile il volante. Fissa le maniglie con la colla a caldo. Fai un baldacchino con un guscio di plastica. Prendi il telaio di una vecchia macchinina. Incolla il corpo con il sedile. Decora l'auto con la scritta LOL. La tua carrozza rosa ti aspetta! Ora la tua bambola ha il suo personale in mezzo di trasporto. La sua Lolly Cooper! Vediamo cosa possiamo ricavare da soffici scovolini. Spoglia la bambola. Avvolgila con lo scovolino. Copri le gambe una ad una. Avvolgi il corpo fino al collo. In caso di freddo inaspettato aggiungi le maniche lunghe. Il risultato è un elegante pigiama. Tutto ciò che rimane da fare sono delle orecchie morbide con gli scovolini. Metti le orecchie in testa. È ora di fare un pigiama a parte divertente. Le ragazze LOL sono più che pronte! Amano davvero il velluto! Guarda quanto sono carine! Per il prossimo life hack avrai bisogno di un ramoscello curvo e mezza palla LOL. Inserisci il rametto nell'incavo. Riempi una pistola per colla caldo con uno stick nero. Fissa il ramoscello sulla palla e decora la base dell'albero. Useremo delle foglie artificiali per decorare l'albero. Incolla le foglie verdi sul tronco. Prendi una mini palla e un filo decorativo. Inserisci i fili attraverso i fori della palla. Fissali con i nodi. Fissa l'estremità del filo al ramoscello. Questa piccola LOL ama andare sull'altalena. Guarda i suoi occhi. Brillano letteralmente di felicità. Ecco cosa puoi fare con una capsula di LOL Surprise. Fai un buco al centro del lato anteriore del cilindro. Inserisci un tubo di plastica. Avrai anche bisogno dei tappi delle sfere LOL. Fai un grande foro in uno dei tappi e molti piccoli buchi nell'altro. Incolla caldo i tappi insieme. Fissali al tubo. Applica una striscia di colla caldo sulla parte esterna del cilindro. Fissaci una bottigliezza di plastica. Fissa una piccola luce a led all'interno. Posiziona il tubo nella bottiglia e versaci dell'acqua. Ora la bambola LOL ha la sua cabina doccia. Premi la bottiglia e la bambolina può fare la doccia. E con una retroilluminazione a led il divertimento del fare la doccia raddoppia la migliore idrodisco di sempre. Per il prossimo Lifehack hai bisogno di un pezzo di tessuto autoadesivo a poire e di una piccola scatola. Copri la scatola con il tessuto. Copri la scatola con il tessuto. Apri una palla LOL di plastica. Estrai le parti interne. Fissa una palettina da caffè in legno a metà della palla. Usa la colla caldo. Incolla la seconda estremità del bastoncino sul fondo della scatola. Incolla caldo i sedili di plastica negli angoli. Il risultato è un parco giochi con un ombrellone da sole e da pioggia. Ma non è tutto. Prendi della sabbia cinetica gialla. Riempi la scatola. Guarda quanti bambini sono venuti a giocare nella tua sabbiera. E non dimenticare di prendere palette secchiello. La sabbia è perfetta per fare i castelli di sabbia più belli. Questa volta useremo una custodia conchiglia. Aprila. Incolla le metà del guscio in questo modo. Collega la maniglia e uno dei sedili dalla sfera di plastica LOL. Taglia l'eccesso. Fissa una tasca di plastica alla culla con una pistola per colla caldo. Incolla la maniglia e uno slot per la bottiglia. Prendi alcuni pezzi di un vecchio passeggino pieghevole. Avrai bisogno delle ruote posteriori e del telaio con le ruote anteriori. Connettili l'uno all'altro ad angolo. Usa la colla caldo. In questo modo otterrai una bella carrozzina da viaggio LOL. Riciclando parti in plastica. Inserisci la bottiglia nello slot e metti uno snack nella tasca laterale. È ora di prepararsi per una passeggiata mattutina con la bambina. Camminare con questo passeggino è davvero divertente. Hai raccolto un sacco di sfere LOL ma non hai idea di cosa farne. Abbiamo un life hack apposito per questa occasione. Dividi la metà delle palle per colore. Incolla caldo. Attacca la seconda fila di palle in questo modo. Incolla i pezzi a cascata. Ottieni un piedistallo multistadio per tutte le tue bamboline. Sembra che ci sia un concorso di bellezza per bambine qui. Le tue baby LOL sono in bella vista e noterai subito se ne manca una. Bellezza e ordine! E per il prossimo life hack useremo i coperchi dell'uovo di plastica. Colleziona un numero pari di tappi. Più ne riesci a trovare, meglio è. Applica la colla caldo. Incolla le parti insieme. Taglia una cannuccia in cinque parti. Incolla i pezzi su una delle cover. Ed ecco delle sedie carine ideali per la tua bambola. Crea più sedie da bambola e invita le amiche per un tea party con la torta. Ora prendi l'involucro a conchiglia e dividilo in due parti. Prepara quattro matite. Incolla i supporti di legno al guscio. Incolla l'altra metà del guscio all'altra estremità dei supporti. Utilizza una pistola per colla a caldo. Attacca un'altra matita alla fine. Ed ecco un letto a castello per le tue piccole perle LOL. Appendici un pezzo di tulle bianco. Decora le matite con roselline di gomma piuma. Fai lenzuola con brandelli di stoffa e aggiungi cuscini in pelliccia. E per salire al secondo piano usa una scala fatta di bastoncini. Le ragazze sono molto comode nei loro nuovi letti. Sogni d'oro piccole LOL. Questa volta avrai bisogno di una grande scatola di cartone. Taglia l'eccesso. Decora delle strisce di cartone con del tessuto autoadesivo. Metti i ripiani nella scatola. Metti un divisorio e attaccaci una barra di legno. Realizza un disegno di ante battente su un foglio di gomma piuma scintillante. Taglia le ante e fissali alla scatola. Al posto delle maniglie inserisci puntine con pompon. Incolla dei cuori con la scritta LOL. Decora con forme carine. Appendi gli occhiali, gli abiti, i completi e i tuoi accessori preferiti nell'armadio. Puoi sistemare tutto ciò di cui la tua bambola ha bisogno in questo enorme armadio. E ci sarà ancora dello spazio. I normali occhiali bianchi sembrano noiosi e banali, ma ora li sistemeremo. Brucia le lenti di plastica. Lascia solo la montatura. Taglia delle eleganti lenti rosa da una lente di ingrandimento di plastica. fissali alla montatura con la colla a caldo. Gli occhiali rosa stanno molto meglio alla tua bambina. Il mondo è dipinto con colori vivaci e il suo umore migliora immediatamente. Non è una bambola, ma una dolce stilosa. Per il prossimo Life Hat togli uno dei sostegni di plastica dalla palla. Incollalo a caldo sul fondo di una tazza. Fissa i gusci del set ai lati. Incollale lasciando le conchiglie aperte. Con l'aiuto delle pinze, taglia un pezzo di manico con fissaggio. Fissalo al lavandino. Al posto di uno specchio, usiamo la lente di un paio di occhiali rotti. Incollalo specchio sul lavandino. Le bambole LOL sono completamente dedicate alla pulizia e un comodo lavello è esattamente ciò di cui hanno bisogno. E puoi mettere accessori e asciugamani sugli scaffali a conchiglia. Ora hai bisogno di una piccola palla luccicante e di una torcia elettrica. Smonta la torcia ed estrai l'elemento luminoso. Applicalo a colla a caldo e fissalo all'ugello trasparente. Apri la palla e incolla il pezzo a una delle metà. Capovolgi l'altra metà della palla. Incolla un manico per il trasporto. Fissalo in posizione verticale. Ecco una lampada alla moda. Di cos'altro hai bisogno per un accogliente serato invernale con una tazza di tè e un libro interessante? Ti sono piaciuti i nostri hack per le LOL? Presto scrivi nei commenti quali vuoi provare e non dimenticare di mettere like a questo video, di iscriverti al nostro canale e fare clic sulla campanella in modo da non perdere le più interessanti idee per le bambole di Troom Troom.